Bello ragazzi e benvenuti in questa recensione a caldo dell'episodio 83 di Boruto Titolo dell'episodio La giustizia di Onoki Allora, allora, vi dico subito che Come puntata, ve lo dico subito proprio all'inizio della puntata, cioè all'inizio del video, mi è piaciuta Come puntata mi è piaciuta, però alla fine secondo me è mancato quel po' di pepe che ci deve essere Noi sappiamo che in qualsiasi anime, in qualsiasi anime che noi andiamo a vedere Alla fine di una puntata vi lasciano in sospeso di che Cazzo, dai, nella prossima puntata sicuramente succederà un casino al finimondo Un protagonista che affronta il più forte Qui no Finisce la puntata Quindi, cioè, è come che fosse finita al centro Quindi come fosse finita... e poi? Cioè, ok, quindi, cioè, dammi un finale che magari mi può dire Cazzo, non vedo l'ora di vedere la prossima puntata No È finita un po' insipida, secondo me Però, comunque, bando alle ciance, iniziamo subito e iniziamo chiaramente con Non è un flashback, ma comunque ci fa vedere quello che è successo settimana scorsa Ovvero, Onoki, no, Onoki è il boss È stato tutto un suo piano Comanda lui, è cattivissimo E anche Onoki lo dice Io non voglio farvi del male, lo diceva con Boruto e gli altri E lo sto facendo per la pace Cioè, quello che sto facendo, lo sto facendo per la pace Chiaramente, ragazzi, sapete, Boruto non sta mai zitto È come il padre Quindi continua a parlare e parlare E Onoki ordina Aku, che è il figlio, brutto come la morte Cioè, Onoki è un modello in confronto al figlio, fa veramente schifo Anche perché con i capelli davanti da una parte Aku vuoi imitare Sasuke La porta, su La porta ce l'ho qui Però, comunque, dai Su, Aku, levati, dai Non hai un'unghia di Sasuke Quindi non imitarlo neanche con i capelli A parte nel manga, che Sasuke fa veramente schifo Disegnato, vabbè Vabbè, lasciamo stare Comunque, viene ordinato a Aku, da Onoki Di bloccare Boruto Quindi, viene atterrato Boruto Gli viene bloccato un braccio Però Boruto se ne sbatte i coglioni Continua a parlare Sapete, comunque, Boruto com'è Passiamo, ragazzi, al villaggio della foglia E Naruto telefona alla Tsuchikage Quindi vuole provare a parlare con la Tsuchikage Per sapere un po' come stanno andando le cose Risponderà alla Tsuchikage? Chiaramente no Perché anche lei è stata rapita È stata messa in gabbia E quindi risponde il primo ministro Chiamiamolo così Non so il nome e manco l'hanno detto Penso che manco lo diranno Però risponde questa persona Comunque importante, vicina alla Tsuchikage E gli dice, riferisce a Naruto Che la Tsuchikage non c'è È partita per delle cose E non tornerà in tempi brevi Così gli dice Boruto che mi dice Ok, ok, e butta giù Io in quel momento lì ho detto Ok Un altro che sta dalla parte di No Sì, di Inoki Di Onoki Vabbè, ci può stare E invece no Invece no Perché dietro questa persona Compare Si vede Una del gruppo di Nino D'Angelo C'è Nino D'Angelo Quello con i capelli lunghi Quello con i capelli Quello con il penarello E la ragazzina No? Ecco, la ragazzina ha il potere Di controllare le persone Quindi riesce a controllare E fargli dire quello che vuole E quindi ha fatto così Col primo ministro E basta Torniamo da Onoki Ragazzi che ordina A Ku Che stava tenendo Boruto Di liberarlo Chiaramente lo libera Boruto si alza E Onoki racconta Che anni fa Dei ninja traditori Hanno attaccato il villaggio E svariati ninja del villaggio Hanno perso la loro vita E Onoki Per evitare Che questa cosa Accada Ancora Ha deciso di creare Questi esseri Quindi Gli Akuta Ma io credo Che più che gli Akuta Voglia riuscire Chiaramente tramite Mitsuki A ricreare Tipo Nino D'Angelo Però Che continui a vivere Quindi che abbia una vita Come Mitsuki Che non muoia Dopo poco tempo E sempre Vuole sfruttare Questa cosa Per difendere Il suo villaggio Perché parliamoci Chiaro ragazzi Onoki lo sa più di tutti Il mondo ninja Adesso Essendo in pace Ci sono poche organizzazioni E comunque Quelle che sono Non sono molto forti Non sono come Lakatsuki Lakatsuki L'alba Non sono come quella Che è un'organizzazione Con i coglioni così No Sono organizzazioni Un po' così Che comunque Vengono sventate Abbastanza velocemente Se ci sono E quindi I ninja Non si allenano più Così tanto Anche se dobbiamo Allora Allora Grazie Allora ragazzi Calcoliamo che Naruto e Boruto Prendiamoli Ma mettiamoli Alla stessa età Quindi mettiamo Naruto Alla stessa età Che c'è adesso Boruto Boruto Attualmente È molto più forte E il treno Non è d'accordo Lo so Anche a me Mi sembra strano Basta Ti prego Va beh Dicevo Boruto È molto più forte Lo so Anch'io sono affezionato A Naruto Però Dobbiamo dare A Cesare Quel che è di Cesare Ragazzi Boruto È più forte Di Naruto Quando era alla sua età È più forte Boruto Sa usare Rasengan Boruto Si sdoppia Va beh Ma quello sapeva farlo Anche Naruto Boruto Sa usare Più abilità Quindi più tecniche Diverse Sa usare Il fulmine Sa usare L'aria Il vento Comunque avete capito No Sa usare più tecniche Naruto Questa cosa Non la sapeva fare Quindi se li prendiamo Allo stesso livello Boruto È più forte Ma Questo comunque L'hanno voluto Inserire Giustamente perché È il protagonista Chiaramente Deve Saper fare qualcosa In più degli altri Ma la squadra di Boruto E la squadra di Naruto Prese Alla stessa età Ti fan vedere Che comunque C'è lo sviluppo Dei personaggi E Boruto E la sua squadra Sono molto più forti Sarada Ha imparato Rasengan Prima del padre Mitsuki Va beh Non lo calco Già Mitsuki È un mostro Quindi Se calcola Sakura Dall'altra parte Se calcola Quindi Se prendiamo Sarada Boruto E Naruto E Sasuke Sono troppo Più forti Gli ultimi Gli ultimi Boruto E Sarada Sono veramente Molto più forti A me dispiace Ve lo dico tranquillamente Anche a me dispiace Anch'io tengo a Sasuke Tengo a Naruto Ma è così ragazzi È così Sono molto più forti Sono veramente Molto più forti Però Togliendo Loro dal mezzo Dovete mettere Gli altri ninja Tutti gli altri ninja Non hanno Una minima Speranza Contro Uno che sa Fare a combattere Non hanno Veramente Una minima Speranza Perché Perché Non si allenano Abbastanza Non sono Cresciuti In un mondo Dove La lotta Comunque la guerra Era la cosa Principale Essendo cresciuti In un mondo Di pace Si sono Si alleniamoci Quando abbiamo tempo È normale È veramente Normale Però E questa cosa Onoki L'ha capita E quindi Vuole sfruttare Gli Akuta O comunque Chiamiamoli Akuta Ma comunque Nino D'Angelo E gli altri Per Non far perdere La vita A ninja A giovani Diciamo così Comunque a ninja Che comunque Non si sono allenati Così tanto Passiamo ragazzi A Mitsuki Ci fanno vedere Mitsuki E ci fanno vedere Che è tipo In una sorta di grotta Vi ricordate La grotta di Orochimaru Quando c'era Sasuke Chiaramente Quando ha incontrato Poi Naruto All'inizio Che c'era quella grotta Con tutti quegli svincoli Ecco Più o meno È quella Più o meno Incontrano Cioè ci fanno vedere Mitsuki E Nino D'Angelo Che parlano E camminano Per la grotta Incontrano Quello con i capelli lunghi E il pennello Che è un nuovo personaggio È un altro Sempre degli Akuta Chiamiamoli così Ma ha i capelli Dritti così Rossi Quindi è un pennarello Alla fine un pennello Un pennarello Come volete E ci fanno anche vedere Che comunque All'interno Tra di loro Ci sono degli screzi Però alla fine Devono obbedire Gli ordini di Q Perché il loro capo È Q E ci fanno anche vedere Che Nino D'Angelo Porta Mitsuki Nella sua stanza Sembra strana Sta cosa ma no Porta Mitsuki Nella sua stanza E nella stanza Di Nino D'Angelo Ci sono tantissimi Disegni Attaccati al muro E nei disegni Ci sono raffigurati Lui Gli altri Gli altri Akuta E in un disegno C'è anche lui E Mitsuki E gli dice Guarda questi sono i miei amici Poi gli fa vedere Il disegno di lui E Mitsuki E adesso ne ho uno in più Cioè mi fa una tenerezza Poverino Cioè Non lo so Mi dispiace Per Nino D'Angelo Nel senso Sono anche dimenticato Come si chiama Comunque Mi dispiace Perché si vede Che non è cattivo Cioè Vi hanno detto Di far così Capito Lui vuole semplicemente Avere degli amici Conoscere le cose E basta E mi dispiace Morirà sicuramente Però mi Mi dispiace Sono sincero Mi dispiace Povero Nino D'Angelo Torniamo a Donoki E lui dice Guarda Noi Mitsuki Ci serve Ci serve Chiaramente lo sappiamo Devono controllarlo Devono vedere Il modo Per creare Altri personaggi Come Mitsuki E chiaramente Boruto dice Guarda Smettila Te prego Smettila Fammi incontrare Mitsuki Voglio incontrarlo Per favore Onoki dice No No Finisce qui Proprio Cattivo Cattivo Noki Giustamente non vuole Che altri ninja giovani Comunque altre persone Del suo villaggio Perdano la vita E quindi Vuole creare questa cosa Inizia una battaglia Tra Boruto E Ku E Onoki Però dice Fermati Ku Non attaccarlo Praticamente Onoki non vuole Combattere con loro Perché alla fine Gli vuole anche bene Insomma Ci ha passato anche del tempo Al villaggio della foglia Quindi si è anche affezionato A Boruto E ai suoi amici Gli vuole bene Ma no Non combattere Non combattere Ma però Ku Che cazzo di nome Tra tutti Continua a combattere Continua veramente a combattere E rinchiude Boruto Dentro una sorta di Di te No di teca Di Di cupola Come è venuta Madonna Ma oggi sto parlando Una cupola Di pietra Arriva Akatsuchi Crea un golem E spacca la pietra E libera Boruto A un certo punto ragazzi Per distruggere il golem Cosa fa Ku Arte della pietra Cubo di sparizione Quindi usa La tecnica del padre Vi ricordate Quella sorta di cubo Che veniva fuori E distruggeva qualsiasi cosa Ecco quella tecnica lì Minchia Mustugoso È veramente fortissimo E chiaramente poi Tutti gli altri Quindi tramite Penso consiglio di Non mi ricordo Comunque Decidono di separarsi E di ritrovarsi Tutti al punto di incontro Questo è Viene colpito Akatsuchi Viene mandato Contro una Una colonna immensa La colonna cade E sta per cadere Addosso a Onoki Onoki Sapete che È sulla sede rotella Quindi non è che può far tanto Sta cadendo questa colonna Che arriva a salvarlo Non arriva Ku Suo figlio Ma arriva Boruto Quindi prende Onoki E scappa via Passiamo ragazzi A Shikadai Stava correndo per andarsene Chiaramente come vi ho detto prima Si se ne vanno E poi si ritrovano tutti Al punto di incontro Però Una kuta A caso Lo blocca per un piede E lo trascina via Quindi lo trascina Di dentro la terra Quindi è riuscito A rapire Shikadai Una kuta di merda Una kuta È riuscito a rapire Shikadai Dove viene portato Shikadai? Viene messo in gabbia E viene messo in gabbia Qui c'è la gabbia di Shikadai E qui c'è la gabbia della Tsuchikage Così Di fianco Praticamente parlano Si scambiano le informazioni L'una con l'altra L'uno con l'altra E niente Poi nella prossima puntata Perché a me si libereranno Tutte le solite cose Ragazzi Scusate per questa interruzione Però Mentre stavo montando il video Ho visto che c'è un problemino Cioè Me ne sono accorto anche il ritardo Mentre stavo registrando E non avete sentito Perché neanche perché Non l'ho registrato Visto che la telecamera L'hava smesso di registrare Quello che è successo a Mitsuki Mitsuki l'hanno messo In una sorta di Di macchinario Dove lo scannari 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 Scannerizzano Non mi veniva Dove lo scannerizzano E scoprono Che nel petto Di Mitsuki C'è il segno Maledetto Questo è quello che avevo detto Il problema Che si era staccata La registrazione Che bello Vi lascio al me Del passato E niente Ci viene svelato ragazzi Come Chiaramente A secondo della Tsuchikage Vengano creati gli Akuta Chiaramente si infonde Del chakra Nell'argilla E poi si usano Delle tecniche Così dice Però C'è una cosa Che mi dà Da pensare Sempre in questa puntata Sempre quando Mitsuki stava facendo Il tour Della grotta Insieme a Nino D'Angelo Ci hanno fatto vedere Che gli Akuta Venivano fuori Dalla terra Come funghi E quindi Alla fin fine Quello che sta dicendo La Tsuchikage È una strozzata Non lo so Però secondo me Questo è un errore Questo è un errore Perché Lei dice che Vengono creati Tramite il chakra Ci fanno vedere Prima che gli Akuta Vengono fuori Come i funghi Da tipo Dalla melma Dal fango Non lo so O Mettono il chakra Nel fango E si creano Da soli Non mi sembra Però Questo è quello Che hanno detto Scena finale Ragazzi Si vede Boruto Che come avevo detto Aveva salvato Onoki E lo sta portando Sulle spalle E si nasconde Dagli Akuta Che lo stanno cercando E finisce così E lo spacco la sedia Non mi è dispiaciuta Come puntata Però alla fine Veramente mi ha lasciato Qualcosa in sospeso E che dire Niente ragazzi Se il video Vi è piaciuto Lasciate un bel Pollicino in su Se non vi è piaciuto Chiaramente Pollicino in giù E Bella Bella